Ciao a tutti, io sono Marco e lavoro come tecnologo alimentare presso la Balconi Dolciare S.P.A. nello stabilimento di Milano. Se anche voi siete interessati al settore agroalimentare e tutto ciò che è annesso alla produzione di materie prime e di semi lavorati, vi consiglio vivamente di dare un occhio al percorso formativo che vi offre l'Istituto Agrario Vincenzo Luparia. Nella mia esperienza quinquennale presso tale istituto ho avuto modo di crescere sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista professionale, mettendo le basi per quello che è stato il mio percorso universitario in scienza e tecnologia e alimentare, culminato con un'esperienza all'estero in cui ho presentato un nuovo snack proteico a base di lupini e di miglio. Indipendentemente da quello che sarà il vostro percorso, se mettete in pratica con impegno ed edizione ciò che vi viene insegnato, sicuramente arriverete a degli ottimi risultati. Vi faccio un grosso in bocca al lupo e vi auguro di fare la scelta giusta.